Buongiorno a tutti, buona domenica. Per il Crislam è un giorno di festa perché sappiamo che è un misto di cristianesimo e Islam. In questo video, già vi ho spiegato quali sono le convinzioni del Crislam, vi volevo dire l'importanza della preghiera. Alcune sure coraniche, come la prima e poi la sure che è il puro monoteismo, la 112, costituiscono una preghiera completa. E però, siccome io appartengo al Crislam, le completo con la dicitura in nome dell'amato Messia Gesù Cristo. Quindi in nome del tuo amato Messia Gesù Cristo. E questa, diciamo, la completezza. Quindi la prima sure è in nome di Allah, il compassionevole e il misericordioso. La loda appartiene ad Allah, Signore dei Mondi. E di nuovo ripete, il compassionevole e il misericordioso. Il re del giorno del giudizio. Te noi adoriamo e a te chiediamo aiuto. Guiderci sulla retta via. La via di coloro che è colmato di grazia, non di coloro che sono incorsi nella tua ira né degli sviati. Cioè, questa sure è la prima. E può essere benissimo recitata nella preghiera giornaliera. Poi c'è una sure, la 112esima, che secondo gli esegeti, cioè gli studiosi della tradizione coranica, corrisponde alla recitazione di un terzo del Corano. Ed è la sure Al-Iqlas, il puro monoteismo, che insiste sull'unità di Dio. Il nome di Allah, il compassionevole e il misericordioso, di Egli Allah è l'unico Allah e l'assoluto, non ha generato, non è stato generato e nessuno è uguale a Lui. Ma siccome io appartengo al Crislam, che è un misto di Cristianesimo Islam, concludo con il nome del tuo amato Messia, Gesù Cristo, di cui attendiamo il ritorno. Quindi, diciamo che la preghiera giornaliera è questa, la recitazione della prima sura, Al-Fatia, è il puro monoteismo, la 112esima. Con questo versetto, cioè con la 112esima sura, che secondo alcuni esegeti, corrisponde alla recitazione di un terzo del Corano, si conferma l'unità assoluta e l'impenetrabilità di Dio, l'Eterno, verso il quale tendono tutte le creature. Nella Bibbia il suo nome è Yahweh, infatti nel Crislam non lo chiamiamo solo Allah, ma lo chiamiamo Geova Allah. E la recitazione di queste sura si conclude nel nome del tuo amato Messia, Gesù Cristo. Quindi è questa la preghiera, preghiera che si ripete giornalmente. A chi mi chiede, ma come si prega? Si prega a mani giunte, come i cristiani. A volte, se vuole, ci si può inchinare come i musulmani. Quindi, chi appartiene al Crislam può pregare indifferentemente in una chiesa e in una moschea. Dio ascolta tutte le preghiere, perché Dio è uno e non ha, è uguali. La sua misericordia è infinita, come è scritto appunto nel Corano. In nome di Allah, il compassionevole misericordioso. E come è affermato anche nella Bibbia, quando Gesù Cristo insegna quella preghiera modello, che è diventata la preghiera modello del cristianesimo, il Padre nostro, e che noi del Crislam ripetiamo anche. Quindi è questo il Crislam. È una mescolanza di cristianesimo e Islam. Vuole essere la via che conduce alla riscoperta della misericordia di Dio. E queste due sure coraniche, la prima, la 112, insieme alla preghiera modello del Padre nostro, dovrebbero costituire la preghiera quotidiana, mattutina. Con questo è tutto, vi saluto.